Furto con spaccata nella notte alla ciclomania barale di Verbania. Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso quanto accaduto. La vetrina è stata sfondata con un furgone. In pochi minuti ladri hanno agito portando via proprio le bici che erano in vetrina. Quest'ultima è stata completamente divelta, danneggiata anche lì in segna. Tra l'altro una bicicletta probabilmente caduta dal furgone è stata trovata poi a Trobaso. I titolari sono stati avvisati verso le 5 dalle forze dell'ordine. Purtroppo sono numerosi i furti subiti dagli stessi diversi anni fa. Un episodio sempre a Verbania. Due anni fa l'adrinazione nel negozio di Domodossola tre volte in otto mesi. Siamo esterrefatti per quanto accaduto pur avendo preso tutte le precauzioni. Abbiamo allarme e videosorveglianza. Non sappiamo più cosa fare spiega Florido Barale. Lo stesso aggiunge che Verbania e il VCO sono zone defilate ma comunque evidentemente non esenti da questo tipo di colpi. Nel nostro settore purtroppo in tutta Italia questi furti sono ampiamente all'ordine del giorno sottolinea Barale. Facciamo tutto il possibile ma in due minuti ci hanno svuotato la vetrina. Certo meraviglia che accada nel VCO. Noi siamo molto conosciuti qui ma succede a tanti altri colleghi anche a livello locale. Due settimane fa è stato colpito un collega in ossola. Uno di Romagnano Sesi ha subito due furti in 15 giorni e ha aggiunto. Non manca l'amarezza per quanto accaduto che si somma quella per alcune critiche sui canali social. Noi facciamo il possibile conclude Barale. Davvero non sappiamo più cosa altro fare.